Ciao a tutti, sono Alessandro, un ex audio del CSF e come potete vedere sto seguendo delle foto con questo boccose che serve per le fotografie still life e photo food con la mia inseparabile amica Canon. Tutto questo grazie al corso che ho fatto al CSF con Fernando Alfieri, professore, grazie anche a Tommaso. Diciamo che nonostante sia così triste questa quarantena, almeno con questa passione ci stiamo anche in un po' le giornate. Un saluto a tutti!